In collaborazione con In collaborazione con Imola Motor Valley e Food Valley E allora un piccolo tour tra tradizioni e futuro Il premio Pirazzini undicesima edizione Il menù stagionale della ristorazione Imola città dell'olio Le potature invernali della vite E il falò dei contadini che ricorda i tempi andati Il Loma Mers fare luce a marzo Dalle fiamme si attendeva anche il risponso dell'annata agricola a venire Come stanno andando i vini emiliano romagnone nel mondo? Parleremo di questo Ci occuperemo appunto di un mercato Che è sempre molto importante per l'Emilia Romagna Che esporta volumi interessanti Parleremo di questo Parleremo anche di qualche segnale negativo Che però non è preoccupante Almeno così ci dicono gli addetti ai lavori Imola, Food Valley e Motor Valley abbiamo detto E allora cominciamo proprio da qui Dall'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Per il rilancio dell'undicesima edizione Di un concorso che coinvolge le scuole E gli studenti delle superiori Non solo imolesi ma di tutto il territorio e il circondario Quest'anno il tema parla ai ragazzi Con una riflessione autentica e molto importante Dovranno scrivere o realizzare un video Seguendo questa traccia Uomini e donne Lo sport abbatte le differenze E quindi aspettiamo i lavori E le considerazioni di tutti questi ragazzi Giovani, studenti e studentesse È una domanda implicita In tanti lavori che sono arrivati negli anni passati Resa attuale dal periodo storico E anche da questo 8 marzo appena trascorso Va bene le mimose, splendide fioriture Ma meglio portare dentro ognuno di noi La speranza davvero di relazioni più autentiche Di parità anche sul piano della considerazione Oltre che economiche Lo sport può essere davvero un test Anzi un'apripista Le scuole del territorio sono pronte a scattare Se qualche studente di altre realtà Vuole scendere in pista con noi Può semplicemente contattare la redazione Di con i frutti della terra Che sponsorizza questa iniziativa E l'intreccio tra Motor Valley e Food Valley Tra l'altro fa parte del percorso Di destagionalizzazione del turismo Che si cerca di portare avanti Tra l'altro vogliamo ricordare Che proprio l'autodromo Enzo Edino Ferrari È sede di uno degli eventi maggiori Del baccanale imolese Si tratta del banco d'assaggio dei vini Ma anche di oli Imola E proprio in questi giorni Imola è entrata ufficialmente A far parte dell'associazione nazionale Città dell'olio Il presidente dell'associazione nazionale Michele Sonnessa Ha consegnato la bandiera al sindaco Marco Panieri Insieme all'assessore all'agricoltura Pierangelo Raffini Al direttore dell'associazione Città dell'olio Antonio Balenzano Giovanni Bettini A nome dei produttori olivicoli E Vanni Angeli Vicepresidente del frantoio Val Santerno di Imola Imola città dell'olio Con un frantoio attivo e innovativo Tanti piccoli olivicoltori Con la volontà di impegnarsi A dar voce alle colline Della valle del Santerno Terra avvocata Una superficie olivicola In costante crescita E anche aziende impegnate Nella meccanica di settore Numeri importanti Quelli del territorio imolese La produzione relativa Al frantoio Val Santerno Ad esempio È passata Dai 500 quintali di olive Lavorate Con 70 quintali di olio Nel 2019 Ai quasi 5200 quintali di olive Lavorate E oltre 750 quintali di olio Ottenuto Con 450 clienti Nel 2022 Se facciamo i conti Una crescita In quattro anni Che è decuplicata L'adesione alle città dell'olio Secondo Giovanni Bettini Produttore di Borgo Tossignano È un grande contributo Per guardare avanti Con fiducia Alla prossima raccolta Anche dopo Che gli uliveti In collina Sono stati In tanti casi Distrutti Dalle frane Legati alle alluvioni Dell'anno scorso Mentre i contributi Che sono stati promessi Per il ripristino Degli uliveti Non sono ancora arrivati Inoltre Si attende un impulso Ad un turismo mirato Alla scoperta Dell'oro giallo Con visite guidate Al paesaggio Degustazioni di olio Extravergine d'oliva Nei ristoranti E nelle piazze Come è avvenuto In questa occasione Favorire la promozione Dell'olio di oliva Di qualità Valorizzando una filiera locale In grande espansione Promuovendo anche La cultura dell'olivo Per l'attrattività Turistica Culturale Economica Non solo per maggiori vendite Ma anche come Vetrina di alto livello E caratteristica Per la promozione Del marchio Imola In Italia All'estero Un tassello Che si aggiunge Alle varie promozioni Delle eccellenze territoriali Considerando anche La creazione del brand Dal cuore di Imola Il progetto Terre e motori L'adesione A città dei motori E così Ricuciamo Il nostro filo Conduttore Motor Valley E Food Valley Ma di vite E di vigna Parleremo nel finale Di puntata Mentre adesso Proprio a creare Ulteriormente Questo legame Tra motori E cibo Ci spostiamo Di pochi passi A raggiungere Ostaria 900 Perché scopriremo Quali sono Le verdure di stagione In questo passaggio Tra l'inverno E la primavera Abbiamo raccontato La Motor Valley Abbiamo raccontato Un pezzo Di Food Valley I legami Ad esempio Con questa Imola Città dell'olio Ma olio e vino Che recitano Anche in eventi All'autodromo Durante il Baccanale Abbiamo raccontato Il premio Ezio Pirazzini Bene Lo abbiamo anticipato Adesso siamo In cucina Ostaria 900 A pochi passi Dall'impianto Sportivo Motoristico Orazio Galanti Allora Siamo in un momento Di passaggio Dalle verdure Dell'inverno Alle verdure Della primavera Quali sono I piatti Che si possono Costruire E realizzare Adesso Un periodo fondamentale È il radicchio di campo Che stiamo utilizzando Che poi state vedendo Qua Che lo stiamo realizzando Un bel risotto Di grande qualità Tirato Con del taleggio E il radicchio di campo Usato proprio Come Come prodotto tipico Di questo momento Abbiamo ancora Un periodo abbastanza Invernale Caldo Invernale Stiamo arrivando Alla primavera Quindi è Buonissimo Alla fine del mondo Molto croccante Piccolino Ed è un prodotto tipico Del nostro territorio Che noi usiamo Degli ortolani qua E usiamo il prodotto locale Ecco Tra l'altro Cardo gobbo In pastella Ci richiama un po' All'inverno Però insomma Sarebbe bello Averlo in tutte le stagioni Certo È un must Perché tu sai Che già da tantissimi anni Usiamo questo prodotto Che lo produce Un signore Qui della nostra Zona Della Motor Valley Molto vicino Che sotterra Questo gobbo Invece di farlo crescere Lo gira Perperdicolare Cioè Orizzontale E poi lo copre Con Della terra Sopra In modo che Il cardo Non riesca A venire fuori Ma lui cerca Di ingrossarsi E quindi rimane Molto più tenore E si incurvisse Quindi comincia A diventare Molto più ricco Ed molto più morbido Perché non viene a contatto Con l'aria Che sappiamo Rimane abbastanza Lignoso Come prodotto Ed è squisito Perché cavando Qualche fibra Che ha Che sono le parti più dure E noi lo svolentiamo E lo friggiamo E lo serviamo Con una fonduta di parmigiano Da oltre 10-15 anni Ed è un prodotto Che per me È proprio tipico Del periodo E tra l'altro È ineguagliabile Proprio caratteristico Allora Radicchio Cardo Gobbo E poi naturalmente Anche tutte Le verdure Possono essere Accompagnamento Ma anche Protagoniste E poi ci avviciniamo A una Pasqua Una Pasqua bassa Si dice Quando arriva presto Nel calendario E quindi Anche qui Che si può fare? Qui dobbiamo Il momento dell'agnello Che tutte le famiglie In questo porino Stanno levando l'agnello E lo dobbiamo preparare Per la nostra Santa Pasqua Che sta arrivando Cottura tradizionale Al forno Con due patatine buone Patate di Bologna Magari anche dopo Come quella che usiamo noi E niente Fatto cotto tradizionalmente Dentro al forno Con i suoi sapori I suoi aromi Che ci mette Nella bella Pasqua Allora Non ci resta che risalire Raggiungere la tavola E andare a brindare E a questo punto Tutti coi calici alzati Rossi e bianchi Del nostro territorio Vero Razio Sempre legame Rigorosamente Ecco E poi Il legame di nuovo Food Valley E Motor Valley Rappresentato Proprio dagli ospiti Che abbiamo Qui raccolto In questa sala Termina qui La prima parte Del nostro reportage Una piccola pausa Ma poi noi Ci vediamo nel finale Perché andremo in vigna A vedere le potature Invernali E dopo faremo Insieme al mondo Delle tradizioni contadine Il Loma Mers Cin cin Ciao 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 Grazie.